Tutte le giunte, tutte le amministrazioni che si sono susseguite hanno permesso e permettono che ogni anno, non quest'anno ma ogni anno, questo parco vada a fuoco. Ci sono precise scelte politiche di responsabilità di abbandono delle periferie, sappiamo che la periferia è stata completamente abbandonata ai privati ed è per questo che avvengono questi roghi. Abbiamo visto il rogo di Malagrotta per cui il sindaco Guardieri ha detto semplicemente chiudete le finestre, questa è la risposta dell'amministrazione, chiudete le finestre, nessuna soluzione strutturale ed è stata la stessa risposta che il presidente del settimo municipio ha dato dopo il rogo di Centocelle e Cinecittà. Siamo qui perché abbiamo visto che era organizzata questa assemblea, noi veniamo a Torpignattara quindi in un quartiere abbastanza limitrofo e in questi giorni non è il primo incendio che succede, è una situazione abbastanza grave, l'incendio di ieri può essere molto molto grosso e quindi vorremmo capire un pochino di soluzioni che si possono trovare a questo grazie